Spettacolare Tandem Peugeot Primi 900 Cerchi di legno Manubri con regolazione sulla pipa Sella del periodo Scatto fisso, chiaramente Il centrico per la regolazione della tensione della catena fra i due pedali I due movimenti per le stesse Eccolo centrico Le stelle viste da sotto Spettacolare Corona Fassuimbel Naturalmente tutte le catene sono Fassuimbel Anche i pignoni Corona di raccordo sono Fassuimbel Cerchio di legno anche dietro Scatto fisso a due velocità Scatto fisso a destra, scatto fisso a sinistra Con rapporti chiaramente diversi Basta girare la ruota e si cambia il rapporto Panoramica Questo è il massimo di quello che oggi si chiamerebbe bicicletta fixe Pazziscamente bella Peugeot Primi 900 Grazie a tutti Grazie a tutti